Londra è una città in continua evoluzione, una capitale moderna, l'emblema della grande città europea. La città negli anni venti è progredita in modo eccezionale e non sembra intenzionata assolutamente a fermarsi. Gli italiani a Londra sono moltissimi, ben 250.000, praticamente una città italiana fuori dai confini. Sempre di più sono i nostri connazionali che scelgono di vivere in questa capitale. Ma cosa li spinge? Quali sono i pro e i contro? Scopriamelo insieme. Ma prima di tutto, sigla! Uno dei vantaggi più immediati del vivere a Londra è rappresentato dalle infinite opportunità che offre la città. Le possibilità vanno dallo studiare all'amorare. Basta lottare per ciò che si vuole ed i risultati senza ombra di dubbio arrivano. L'impegno ed il duro lavoro pagano sempre. E a Londra troverai molti trampolini lancio per i tuoi sogni. Alcune delle migliori università del mondo, le aziende più grandi ed importanti, davvero non manca nulla. Ed ognuno può trovare ciò di cui ha davvero bisogno. Nota dolente per gli italiani che aspirano ad un futuro londinese è sicuramente il clima della capitale britannica. In Italia, specialmente al sud, siamo abituati ad un clima caldo, al sole, al cielo azzurro. Londra ti farà ben presto dimenticare le giornate di sole, rarissime, e ti costringerà ad abituarti a quelle di pioggia. Un po' malinconico a dirsi, ma la pioggia può essere anche romantica in un certo qual senso e non tutti i mali in fondo vengono per nuocere. Londra è enorme. L'estensione supera i 1500 km2 e ciò fa di essa la più grande capitale europea. Nell'immensità della città non ti annoierai mai. La lista delle cose da fare è quasi infinita. Musei, centri commerciali, pub, parchi e così via. Insomma, non troverai mai il tempo di lamentarti grazie alle decine e decine di attività che la città mette a disposizione ogni giorno. Se sei un fruitumore abituale di alcolici e sigarette, ti conviene moderarne la quantità o addirittura smettere del tutto. Non solo perché ne gioverà la tua salute, eh, ma perché anche il tuo portafogli ti ringrazierà notevolmente. Le sigarette costano molto, anzi moltissimo. Un fumatore che vuole vivere a Londra dovrà sborsare circa 10 serline per un pacchetto. Le persone che non riescono proprio a farne a meno iniziano spesso a farle da sé con il tabacco, andando a risparmiare qualcosina, ma comunque non eccezionalmente. In Italia siamo abituati al buon vino e magari al cocktail con gli amici il sabato sera. A Londra ti sposterai più su quella economica e fribile birra. Gli inglesi ne bevono in quantità notevoli e dopo un po' di convivenza sarai in linea anche tu con loro. Londra è una città organizzatissima. Tutto funziona in modo impeccabile. Ottimo spunto sono gli esemplari servizi pubblici di tram, metro e bus. Mai in ritardo. Se dovessi avere un disguido, senza alcuna difficoltà troveressi qualcuno pronto ad aiutarti. Spesso però scoprirai che chi ti aiuta è un italiano. Il caffè. Altra ferita aperta nel cuore di noi italiani abituati all'ottimo caffè della nostra terra. Diciamo che parlare di caffè a Londra è nella maggior parte una eresia. Solitamente è una miscela composta da acqua calda e un lieve aroma di caffè. La classica acqui burp per dirla alla napoletana. Dal sapore non sempre ingradevole. Per noi il caffè è un rituale. Per gli inglesi è un beverone. Se sei da buon italiano, cultore del buon caffè e i programmi di vivere a Londra, faresti molto bene ad attrezzarti con una moca e caffè macinato. Potrebbero essere fondamentali. Londra è un melting pot, un crogiolo di popoli, un gigante centro di scambi interculturali. Se sei affascinato dalla multiculturalità, Londra è la città che più fa il caso tuo. Se sei poi un poliglotta, a Londra potrai parlare tutte le lingue che conosci. Trasferersi a Londra è un po' come trasferersi in tutto il resto del mondo messo insieme. Basterà una passeggiata tra le sue affollate strade per arricchire il tuo bagaglio culturale. Spero con questo video di averti aiutato a capire se il bilancio dei pro e dei contro del vivere a Londra può favorire il tuo trasferimento in questa fantastica città. Ovviamente questo è solo un video di spunto, mi raccomando. Aspetto nei commenti altri punti di vista. Ricordati di scrivermi per qualsiasi dubbio o richiesta tu abbia. E se sei in procinto di trasferirti, fai un giro sul sito di Living Lawn Away per trovare altri consigli. O magari l'alloggio che più fa per te. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. O se lo stai guardando a Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. E ciao! Ciao!